Siamo qui oggi e domani a Mantova nella meravigliosa e splendida Mantova in occasione della nostra assemblea annuale che si terrà appunto domani mattina. L'idea di organizzarla quest'anno a Mantova è data soprattutto dal fatto che vorremmo ringraziare ed onorare i Vigili del Fuoco con i quali collaboriamo ad ogni nostra manifestazione e loro partecipano con diversi mezzi storici molto belli e anche per ricordare a circa un anno di distanza dalla scomparsa di uno dei curatori, dei fondatori del Museo Storico di Mantova che è Bruno Benfatti. Oggi sono arrivati circa una quarantina di mezzi, domani mattina, domenica appunto ne arriveranno un'altra quindicina da un po' da tutta Italia, alcuni oggi sono arrivati dall'Austria, dalla Francia, abbiamo soci un po' in tutti i paesi stranieri della comunità europea, questo ci fa piacere ed onore. Noi stessi partecipiamo casualmente una volta all'anno con due o tre mezzi anche a eventi all'estero e ormai con i club si è instaurata diciamo una collaborazione reciproca. I nostri veicoli partono dal più storico al 1908 fino a diciamo agli anni 80. Cerchiamo di con questo tipo di manifestazioni fare rivivere le emozioni che si provava una volta quando magari da Mantova per andare a Modena o a Verona ci si metteva quasi una giornata o con un camion si partiva, si andava che ne so a Rovigo, a Ferraro o al porto di Venezia, era un viaggio di una settimana. Autostrade non ce n'era, la vita era dura e con spirito di sacrificio i camionisti soprattutto hanno percorso nel boom nel dopoguerra, negli anni del boom economico il paese l'Italia per decenni percorrendo migliaia e migliaia di chilometri. Alcuni di questi mezzi sono la loro prima uscita ufficiale in quanto i restauri rispetto ad un'auto, ad una moto sono molto più lunghi e sempre anche più difficile reperire pezzi di ricambio, infatti molti di questi vengono costruiti artigianalmente dal proprietario dello stesso mezzo. Oggi alle 18 ma anche domani pomeriggio appunto domenica effettueremo una sfilata per lungo lago Gonzaga, via Legnano, via Lemincio, un breve tratto però è bello vederli parcheggiati ma è emozionante anche appunto sentirli transitare, circolare, arrancare con le loro potenze di una volta che il massimo per un camion era appunto uno che è qui presente 137 cavalli che all'epoca era già tanto. Light è come appunto testimoni della storia dei trasporti, invita tutti appunto gli appassionati o anche gli ascoltatori se hanno delle testimonianze, libri, fotografie del nonno o del padre ad inviarcene copia all'associazione che noi siamo ben contenti di ricevere materiale, di pubblicarlo su eventuali libri che alcuni soci periodicamente appunto scrivono e il nostro sito internet appunto www.trasportidepoca.it e ci sono tutti i riferimenti anche di cellulare per dire ne lascio uno, un 348 55 83 600 che sarebbe il mio.